Grazie 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 Bravo Gildo L'ho di riscaldamento che hai fatto 82, 83 scusa è il primo 77 e invece arriva Gildo Dai dai Vai Ichelle 89 71 No ma no E' 59 Vai Ale forza No Mi sono andato a partire perché mi sono andato a partire perché mi sono andato a partire per il movimento Forza Michele Vai Dai Alberto Dai Gabriele dai Ultimo Bravo 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 Lorenzo Bravo Hiptro Ha fatto bene, è proprio bene! Bravo! Bravo Lorenzo! Bravo Lorenzo! Bravo Lorenzo! Complimenti! Bravo! Bravo, anche te! Sì sì, ci siamo divertiti È sempre duro correre qua Prima gara stagionale, quindi va bene, per fare un po' di ritmo È stata una bella gara Comunque con Lorenzo Brugnieri giravamo più o meno uguali Ci siamo un po' andati in battaglia Ma va bene così Grazie Buongiorno! Complimenti! Grazie, grazie di cuore È duro, è duro Eh sì Fuori dalla pista è tutto duro Bravo ancora Grazie, grazie mille No, un po' tesso Allora, dai Allora, andate Un po' tesso Dai Ci siamo a 50 No, no, no Ci siamo a 50 Allora Lungo il trascorso E' un po' di mezzo 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 Piano, piano Piano, piano Allè, allè Allè Piano, poco Allè Piano, poco Allè 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti